C'era uno, si vede nell'angolo della casa, è venuto dentro, mi ha tappato la bocca, mi ha puntato la pistola, mi ha rotto la testa. Momenti di angoscia e terrore per l'anziana coppia di coniugi che lo scorso 15 aprile ha aperto ingenuamente la porta ai due malviventi che di lì a poco gli avrebbero fatto vivere alcuni dei momenti peggiori della loro vita. Ha rovesciato tutto e ha portato via, ha portato via. Rubati i risparmi di una vita, reagire sarebbe stato impossibile anche se il signor Giuseppe avrebbe voluto. Se c'è buona pistola, scatzea che ha colto solo, tiriamo fuori la pistola che da sé è una pistola.